Rieccoci qui su Pausa Caffè, signori, per una notizia del giorno, quindi abbastanza fresca, e abbiamo un retroscena per quanto riguarda la situazione di Ilari Blasi, perché il mondo dello spettacolo, lo sappiamo, sta andando incontro a parecchi stravolgimenti, infatti ne abbiamo parlato tantissimo di un sacco di programmi, un sacco di diversi programmi TV, ma in merito a ciò, per quanto riguarda Ilari Blasi, proprio il 4 luglio, si terrà il Mediaset Night, evento tutto dedicato al nuovo assetto del palinsesto, proprio che riguarda la prossima stagione. Non mancano per l'occasione le prime indiscrezioni, diffuse in rete, come quella del sito TV Blog, che ha tirato in ballo proprio l'ex moglie di Francesco Totti. Indiscrezione bomba su Ilari Blasi, cosa sta succedendo nel mondo della televisione? La decisione potrebbe andare incontro a un conferma o a una smentita, ma al momento la notizia non può che creare il dovuto clamore mediatico. Stando a quanto riportato dal sito TV Blog infatti sembra che Mediaset potrebbe mettere in panchina la conduttrice dell'Isola dei Famosi. Dopo l'addio di Barbara D'Urso a pomeriggio 5, anche quello di Ilari Blasi alla luce di un contratto che potrebbe vedere fuori dal giro la conduttrice. Eppure la nuova edizione del reality show, si evince dall'indiscrezione, dovrebbe comunque entrare in porto. Il contratto in questione sarebbe stato firmato fra Banigiai e Mediaset, ma per l'appunto sotto altra conduzione. Ovviamente le notizie non riguardano solo le sorti di Ilari Blasi. Infatti l'argomento non può che interessare anche i programmi di successo della rete, ovvero il grande fratello Vipotto e tu sì che vales, senza dimenticare Temptation Island, c'è posta per te e amici. Ma cosa si è appreso? Sarebbe proprio il grande fratello Vipotto ad andare in onda, seguito poi da Tussi che vales, in un'ultima notizia bomba su Temptation Island, che ne pensate di una stagione in versione invernale del reality show. Insomma, tra pochi giorni queste ipotesi potrebbero diventare una certezza o essere ulteriormente revisionate. Alla lista, si aggiungerebbero inoltre anche altri programmi di successo, qualche esempio. Per citarne uno tra tutti quello della talpa, la cui messa in onda su Italia uno potrebbe essere trasmessa dopo il grande fratello Vip e l'inizio dell'Isola dei Famosi. Per quanto riguarda la programmazione di Temptation Island estiva, questa potrebbe inoltre collocarsi su Canale 5. Insomma, i Vertici Mediaset hanno poche ore a disposizione per decidere quale sarà la nuova veste del palinsesto televisivo. Non resta che attendere e restare aggiornati per sapere tutte le news. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto. Mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max. Ciao, un saluto.